Buonasera, benvenuti a tutte e tutti, innanzitutto molti auguri dall'ABSUS, il Laboratorio per la Sussidiarietà, di cui sono Presidente, che immagino voi conosciate, almeno qualcuno di voi conosca. Se siete qui, sapete sicuramente già che da dieci anni nella Costituzione italiana c'è questa grande novità che è il principio di sussidiarietà, quindi su questo non vi dico molto di più perché siete già sicuramente al corrente. Quello su cui vorrei brevissimamente riflettere insieme con voi è il fatto che grazie a questo principio nella Costituzione italiana a questo punto c'è una novità che non è così evidente, cioè il fatto che i cittadini non sono più utenti o amministrati, ma alleati dell'amministrazione, che è esattamente quello che voi fate, che fa tutto il mondo del volontariato italiano da sempre, solo che in qualche modo rispetto al paradigma dominante, non a caso il volontariato viene chiamato terzo settore, perché è qualcosa che non si sa bene dove metterlo, non è stato, non è mercato e quindi è terzo. Bene, non è più terzo proprio di niente, anzi è al centro, il volontariato è quello che voi fate, è al centro di un nuovo modello di cittadinanza, è un nuovo modo di essere cittadini e la Repubblica, che la Costituzione nell'articolo 3 secondo comma dice che deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, ha trovato degli alleati, perché come sapete l'articolo 118 ultimo comma dice che i poteri pubblici, cioè la Repubblica, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Pensate alla protezione civile, è evidente che se non ci fosse il volontariato, se non ci foste voi, la protezione civile non potrebbe funzionare, è chiaro che ci sono i professionisti, è evidente, però ci sono dei professionisti speciali che sono appunto i volontari, che fanno delle cose straordinarie, le fanno mettendoci l'anima e sono, come posso dire, il tessuto connettivo della protezione civile. E c'è anche un altro aspetto, pensate al ruolo dei cittadini medesimi nell'aiutare se stessi, per esempio per la prevenzione. Se si informassero i cittadini su come comportarsi in occasione delle emergenze che purtroppo ci sono spesso nel nostro Paese, molte sofferenze, molti danni potrebbero essere evitati. Questo significa però considerare i cittadini come portatori e portatrici di capacità e invece, come si è vista all'Aquila, li si considera come dei soggetti a cui dare delle informazioni, spesso anche poco aggiornate, con il risultato che poi quando succede qualche cosa ci sono inutili lutti e inutili danni. E quindi sulla protezione civile secondo me andrebbe fatta una riflessione, non tanto sul ruolo del volontariato dopo le emergenze, ma anche sul ruolo che i cittadini stessi possono avere prima delle emergenze, per proteggere se stessi e le proprie famiglie, per individuare le situazioni di pericolo, per attrezzarsi in modo da affrontare meglio le emergenze. Insomma, anche nel caso della protezione civile il modello è quello del cittadino attivo, responsabile e solidale. Solo una parola su queste ultime tre aggettivi, cittadini attivi, che vuole dire autonomi, in grado di gestirsi, di prendere iniziative, responsabili, che vuole dire persone che danno risposte, in inglese responsabile si dice accountable, cioè persone affidabili e voi siete affidabili, i volontari sono affidabili e solidali, solidale vuole dire essere responsabili di tutti e in fondo la sussiderietà è in questo senso un'espressione di amore verso gli altri, infatti sussiderietà e solidarietà vanno insieme. Grazie e buon lavoro a voi tutti.